Ieri Gela è scesa in piazza per rivendicare il diritto al lavoro contro la chiusura della raffineria Eni. Anche i Forconi hanno partecipato al corteo promosso dal Consiglio Comunale in difesa di un territorio. Qual è la posizione dei Forconi al momento attuale in merito a quello che sta accadendo a Gela? Allora io dico una cosa, intanto che se l'Ene sta dichiarando che sta rispettando il protocollo d'intesa io evidentemente penso che qualcuno quel protocollo l'ha fermato. Ora che si rispetti il protocollo e soprattutto una cosa penso che i gelesi debbano pretendere l'operazione quella che secondo me vale di più, i gelesi devono pretendere al tavolo di partecipare a questo tavolo di trattative. Perché io devo dirti per DNA ormai dei sindacati non mi fido più. Se vedo sfilare qui i partiti e i sindacati che poi ci hanno portato a questo punto mi spieghi qualcuno perché dovrei farmi difendere da chi mi ha portato al disastro Gela. Quindi se c'è una situazione che va corretta è proprio quella. Questa manifestazione di ieri era la manifestazione di un'insalata di tutto quello che si poteva mettere insieme. C'era il PD, io ho visto il PD, ho visto i sindacati. Ci sono l'attuale amministrazione che è formata dai grillini. Però oggi penso che mettere tutto insieme non porta da nessuna parte. Forse bisognerebbe difendersi con tutti quelli che sono i danneggiati di queste situazioni. Dico anche un'altra cosa che Gela non è solo l'impresa Eni, Gela è anche agricoltura. Bisognerebbe mettere insieme forse tutta l'economia di questo territorio perché sarebbe il caso di farlo. E dico che forse diventiamo tutti un po' più forti perché alla fine se l'Eni dichiara quello che ha dichiarato, se l'agricoltura sta andando come sta andando, è tutta un'economia che purtroppo è incatenata e che non si muove e non riesce a sbloccarsi. Qui c'è bisogno di un governo regionale che governi, di un comune che si faccia rispettare e soprattutto c'è bisogno di un governo nazionale che non si metta in ginocchio con l'Eni. Ferro, ieri però è tutta la città che c'è in piazza, c'era il clero, c'erano gli avvocati, le donne, gli studenti. Dobbiamo dire chi sono i colpevoli di questa situazione che c'è oggi. Perché se non identificiamo tutti quelli che hanno portato a questa situazione, io credo che non ci capiamo, non risolveremo mai, cioè non usciremo da questo tunnel. Perché per uscire dal tunnel bisogna dire che forse è il momento che tutta questa classe operaia che è sulle strade, che sta facendo i blocchi stradali, pretenda di partecipare a quelli con una rappresentanza, con una delegazione, pretenda di partecipare ai tavoli. Perché altrimenti se dobbiamo aspettare le soluzioni da chi oggi le soluzioni al tavolo le ha discusse, le ha ragionate, le ha sottoscritte ma non le ha rispettate, io credo che ci prendiamo in giro. Penso che sia l'ennesima manifestazione che poi alla fine non serve a nulla. Qui c'è bisogno che questa popolazione al di fuori dei partiti, tenendo fuori i partiti, tenendo fuori i sindacati, si faccia rispettare in modo diverso. Come vede il futuro di Gela? Se non si arriva ad una manifestazione vera di popolo, quella che, ripeto, metta fuori i responsabili di questa situazione, possiamo anche dirci che nel 2012 ci fu quell'operazione. Lo dico con grande umiltà, noi sbagliamo perché ci sedemmo al tavolo e ancora una volta ci facemmo prendere in giro da quella classe politica di allora. Se qui non viene fuori la Sicilia e non aspetta che qualcun altro, delegando i sindacati, delegando la politica, che qualcun altro gli risolve i problemi, io credo che noi non usciremo da questo disastro.